Innalzare gli standard di sicurezza delle attività commerciali della provincia, valorizzando le soluzioni tecnologiche che consentono una interconnettività più rapida dei sistemi di allarme utilizzati dai commercianti e le sali operative delle forze dell'ordine. Questo il contenuto dell'accordo in materia di videoallarme antirapina sottoscritto in prefettura ad Arezzo. Il prefetto Maddalena De Luca ha infatti sottoscritto tre distinte intese con i rappresentanti provinciali di Confcommercio, Confesercenti e Confcommercio Feder Preziosi. L'obiettivo dell'intese è quello di assicurare elevati livelli di protezione delle aziende e degli operatori del commercio. Secondo le linee di indirizzo basate, anche alla luce dell'evoluzione normativa e delle nuove tecnologie, su una sempre più efficace sinergia tra istituzioni pubbliche, forze di polizia ed associazioni di categoria, in considerazione della crescente domanda di sicurezza nel settore delle imprese e degli esercizi commerciali. I protocolli hanno durata di tre anni. Gli accordi previsti inoltre prevedono di favorire un interscambio di informazioni sui fenomeni legati alla criminalità, al fine di studiare azioni e progetti condivisi sul tema della sicurezza e della prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, oltre a promuovere iniziative ed incontri volti a favorire la cultura della prevenzione e della sicurezza con la partecipazione di personale appartenente alle forze di polizia.